0-0 in trasferta al centro tecnico di Collecchio, quartiere generale del Parma, andata degli ottavi di finale playoff, la Juve Stabia trova uno 0-0 importante contro i padroni di casa del Parma, siamo in compagnia di uno dei protagonisti del match, Mario Zaccariello. Ciao Mario. Ciao Ciro. Mario secondo te 0-0 importante o bisognava magari cercare il gol? È importante però potevamo fare di meglio, magari fare un gol o magari vincerlo. Ecco ci avete provato perché in più di un'occasione con Paolo Masotta siete andati anche vicini al gol, portiere Rinaldi fosse un po' palla bagnata, non è riuscita a bloccarla, forse bisognava crederci un po' in più, questo sì. Bisognava crederci e concludere la palla in porta perché abbiamo avuto un paio di occasioni molto importanti. Ecco sabato prossimo si giocherà allo stadio di Castellammare di Stabia, l'ambiente sarà diverso rispetto a quello di oggi, sarà un ambiente infuocato, è lì che bisogna vincere la partita a tutti i costi per andare avanti nei playoff. Sì dare tutto, dare l'anima perché noi siamo dei calciatori e dobbiamo fare una prestazione molto importante per andare avanti. Grazie Mario. Grazie Ciro. Hai voglia di pizza, fritti e rosticini o di primi secondi e dolci gustosi, di un drink o di un cocktail? Questo è il posto che fa per te, l'incrocio sa prenderti per la gola la tradizione di un'antica ricetta, gli ingredienti naturali e tanto amore. Il giovedì venite a provare il nostro nuovo arrivato, il buttaziello ondufato, chiedetelo, provatelo e poi ci direte. Tipical Italian Food, l'incrocio lo puoi trovare a Torre Annunziata, in via Vittorio Veneto 360, per prenotazioni chiamalo 081 862 2836. Flyline Sport, veste lo sport e il tempo libero, da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri, il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in via Europa, 51G a Castellammà di Sabia, Napoli. Il loro spazio, il loro mondo, ecco il segreto di una famiglia felice. Le Camerette, fattore di felicità familiare. Le Camerette, arredamento specializzato per ragazzi ascafati, www.lecamerette.it Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Via Europa 82 a Castellammare di Stato. Everyday is Beautiful Crediamo che la bellezza sia una cosa raggiungibile da tutti. Insegniamo che essere belli non è un sacrificio, non deve essere necessariamente dispendioso o qualcosa che appartiene agli altri. Essere belli è semplicemente sentirsi bene tutto il giorno, tutti i giorni della vita. Offriamo prodotti di bellezza delle grandi marche e consigli per ogni giorno della vita del cliente. Aiutiamo le persone a stare bene con se stesse e di conseguenza con gli altri. Ci rivolgiamo con rispetto e professionalità. Siamo sempre disponibili. Ti aspettiamo da Olshet. Viene a trovarci a Pompei, nel centro commerciale La Cartier.